Il nostro valore è sempre a vivere, se è basata lì tu si capirà Accogliamo i carici ai nostri giocatori che stanno intrando in campo Sono formazione dell'Atalanta Numero 1, Juan Musso Numero 2, Rafael Taloi Numero 11, Ademora, Lukman Numero 17, Rasmus Hoyland Numero 10, Jeremy Boga E ora accompagniamo i giocatori con le mani fino al centro del campo Si parte Mamma mia Bravo! No! Dai! No! Ah, ma bravo Musso! Cosa ho visto? Chi ha fatto comunque il passaggio? Giro, si rinarga! Dai! Oddio! No! Dai! 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 Non ci credo! No! Non ci credo! No, Jeremy, tira! Ma non lo so! Tira tu! No! Fine primo tempo Fine primo tempo Non riusciamo a concretizzare e rischiamo troppo Bisogna cambiare registro Dai! Con più Coglie e cattiveria Dai Boga, bravo! Dai, dai! Tira! Ma tiriamo! Ma Boga, lì doveva andare? Basti! Basti! Bravo! Dai, tira! Tira! No! No! Bravo Di Miram! Bravo! Ah, ricati! Dai! Dai! No! Oh, vabbè! Ma io sclero! Fa schifo quella roba lì! Emma tiriamo! Mamma mia mamma mia! Ti prego! Ti prego! Nooo! Uscita il cliente! Non ce la faremo mai! Nooo! Fine partita! Molto male!